La puntuale delle zanzare è un evento molto frequente, ovviamente, soprattutto per i bambini, perché hanno un sangue che attira di più le zanzare. Le zanzare cungono prevalentemente all'alba e al tramonto. Sono questi i periodi in cui noi dobbiamo porre più attenzione. Quindi bisogna vestire il bambino con degli abiti lunghi, pantaloni lunghi, calze e magliette con le maniche lunghe e naturalmente cercare di non stare all'aperto nei giardini in queste ore alba e tramonto. Per i bambini più piccoli bisogna utilizzare le reti, anche a casa bisogna utilizzare, soprattutto nelle case al mare, bisogna utilizzare le zanzariere e per le culle mettere una zanzariera di velo che si mettono sopra la culla. Quando il bambino è in punto si possono utilizzare degli stick al cloruro di alluminio, al 5%, sulla puntura, perché la puntura della zanzara, il veleno della zanzara, provoca un ponfo, cioè una piccola bollicina rilevata, molto pruriginosa. Ecco, l'altra cosa importante è evitare che il bambino si gratti, purtroppo questo non è facilissimo, per questo il cloruro di alluminio è sicuramente qualcosa di utile, ma perché naturalmente se si gratta la bolla, la puntura di zanzara, poi si può sovrainfettare, avere gli impetigini, naturalmente i germi della cute possono entrare dentro alla lesione di grattamento e quindi dare un'infezione.